Ciao a tutti, benvenuti al mio primo video del progetto Canale Voto Anche Tu. Brevemente spiegherò che cos'è il canale Voto Anche Tu e che cos'è questo progetto che sto facendo. Allora, il canale Voto Anche Tu appunto è un canale in cui tu puoi votare o meglio rispondere a dei sondaggi sia nazionali che mondiali. Userai il tuo mi e puoi scegliere fra le due risposte di una domanda. Puoi anche, diciamo, indovinare quale sarà la risposta più votata e potrai anche proporre un tuo sondaggio, però dovrà essere accettato dalla Nintendo. Questo progetto che ho in mente io è registrare normalmente i sondaggi che ci saranno adesso e più avanti nel canale Voto Anche Tu e voi potrete commentare normalmente nel video dicendo quale secondo voi è la risposta più votata o quella che avreste messo voi. Ok. A poco a poco io cercherò di far vedere anche i risultati, i sondaggi che verranno in seguito. Come vedete c'è un tempo rimanente per fare un sondaggio, per rispondere al sondaggio, per poi vedere i risultati. Andiamo a fare direttamente un nuovo sondaggio. Ok. Cosa preferiresti essere? Una menusa o una rana? Io direi una rana. Ok. Quindi questa è la mia risposta. Poi nei commenti potete scrivere quale secondo voi è la migliore. Ok. Adesso tentiamo di indovinare quale sarà la risposta più votata. Secondo me una rana. Non credo che molti vogliono essere una menusa. Ok. Perfetto. Abbiamo risposto a un sondaggio. Sondaggi mondiali? Ok. Ti piacerebbe di più dormire a lungo o mangiare cibi più gustosi? Ok. Questa domanda è difficile. Vediamo un po'. Io direi mangiare e dormire a lungo. Però credo che come risposta più votata sia mangiare cibi più gustosi. Vediamo. Ok. Va bene. Come nuovi sondaggi c'erano solo questi. Se durante la settimana ci saranno nuovi sondaggi io registrerò sicuramente oppure se cosa che non credo sia così non ci saranno altri sondaggi ci vedremo fra 5 giorni per il risultato di questo sondaggio. Va bene. Ciao a tutti.